Allora vai, abbiamo qui l'arciere di nome Giuseppe, di Rubbo, ecco qua, un arco molto professionale, di vacanza, il fisico adatto che Giuseppe ha, è anche la tecnica e l'allenamento. Ma questo non è buono, non ti mettevano una sopra e due sopra. Ma ti prende dalla distanza, ti fai malissimo, questo avvagante ti fai proprio male male male.